Ciao a tutti, oggi cominciamo un nuovo form dalla macchina, non più dall'appartamento, dal mio attico super enorme. Allora, oggi vediamo come recuperare il numero seriale o ICCID. Allora, dall'iPhone, pronti? Carta e penna. Beh, innanzitutto vi ricordo che se avete bisogno di connessione più veloce o di risparmiare su internet, potete scrivermi a infochiocciola diegoramazzina.com. Bene, adesso arriviamo a noi. Allora, ogni operatore ha un numero seriale nella scheda SIM dietro che serve per il mantenimento del numero. È un po' il codice fiscale del numero per la portabilità. È indispensabile per chi arriva da ricaricabile, che sia esso privato o ricaricabile aziendale. Non è necessario per chi arriva da abbonamento, quindi per quelli che pagano la tassa di concessione governativa. Chiaro? Bene, allora, procediamo. Ci sono fondamentalmente tre cose che si possono fare. Allora, il primo è da iPhone andare su impostazioni, generali, info, scorrere fino in fondo e lì troverete proprio scritto ICCID ed è il codice che comincia con 8939 ed ha 19 numeretti. Quello lì è il codice della SIM. Su smartphone come Samsung o Huawei o tutti gli altri Android, invece, se non si vuole togliere la SIM, bisogna scaricare l'applicazione Info SIM Card. Ecco, c'è da dire che ultimamente le decine di applicazioni che c'erano su questo, tante volte vengono bloccate per impostazioni di privacy dai vari telefoni. E quindi provate, se non riuscite con questo sistema, bisogna per forza di cose farne altri. L'alternativa è quella, se avete tenuto la schedina di plastica della scheda SIM, lì c'è scritto il codice. Quindi per chi, i più diligenti che tengono tutto, dovreste trovarlo subito. L'altra cosa che si può fare è quella di togliere la scheda SIM. Togliere la scheda SIM e dietro c'è proprio scritto, è talmente in piccolo che forse dovrete fare una foto e ingrandirlo, però dietro la scheda SIM lo trovate sicuramente. Altri sistemi, penso che sia l'ultimo a questo punto, se avete usato una scheda SIM vecchia e quindi l'avete tagliata e il codice seriale si vede a metà o è strappato, non dovete fare altro che inserirla su, mi riferisco per esempio a un iPad o qualcos'altro, dovete inserirla per forza di coro su uno smartphone o su un tablet e mandare un SMS. In questo modo recuperate perlomeno il numero e da lì si riparte con l'applicazione. In alternativa, se proprio non riuscite, non si legge, è tutto cancellato e tutto, esiste la sostituzione SIM. A quel punto si chiede all'operatore di sostituire la SIM e con la SIM a quel punto avete direttamente il numero seriale finito. Ecco, ho voluto chiarire questo concetto perché serve a parecchi clienti nei passaggi, ormai quasi ogni azienda ha i ricaricabili aziendali, quindi è praticamente fondamentale e serve per il mantenimento del numero, quindi praticamente tutti vogliono mantenere il numero e quindi capite bene che penso sia abbastanza importante come informazione. Detto questo, ogni operatore ha comunque degli identificativi, per esempio TIM ha 8939-01-000 e poi il numero e poi il finale del codice, Vodafone 8939-10 e poi il numero, Wind 3 8939-88, vedi dicendo, Iliad 8939-50 e fasto, perdonatemi, non mi ricordo, devo guardare. Comunque, sì, dai, adesso altro video di lavoro, c'è una bella giornata oggi, speriamo che le situazioni migliori come al solito, comunque dai, io spero come sempre di essere stato utile a qualcuno, ci rivediamo alla prossima, buona settimana a tutti, ciao! Ciao!